Queste le informazioni che scenderanno in campo numero 4, Marcello Contafava, numero 5, Michele Castagnetti, numero 6, Luca Mora, numero 7, Manuel Valdari, numero 8, Alessandro De Vittis, numero 9, Gianmarco Vigoni, numero 10, Giamine, di Quimpio, numero 11, Marco Cennini. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.